Ciao amici di Teletro Games, secondo evento spagnolo, seconda sfida anzi, che mi sono sbagliato l'altro giorno detto evento, invece non sfide. Comunque, Real Madrid, Atletico Madrid. Io sono l'Atletico Madrid, lo sapete bene. Allora, andiamo a fare un po' di cambi qui. Renan Lodi, decisamente meglio di Hermoso, perché fuori Llorente, ma perché me lo mette terzino destro, incredibile. Allora, lo spostiamo qui Llorente, e vediamo un po', qui sono tutti su oggi, wow. Io quasi quasi cambio modulo, allora lo tengo qui, allora Savic lo sposto un po' più qua e gioco con un 3-4-3. Allora, a questo punto faccio entrare Felipe, no, non devo spostarlo, ma lo devo mettere a posto di Felipe, ecco. Eccolo qua. Bene. Quindi gioco con un 3-5-2 all'incirca. Mannaggia, Oblak è giù, però il 91, le conto 80. Voi che fareste? Questi altri due sono troppo scarsi. Proviamo Oblak giù. Bene. 3. Llorente qui, De Paul, Le Mara. Mi piace questa formazione. Contra attacco, va bene. Me la gioco così, c'è da segnare 4 gol. Mamma, tanti, tanti. Però, magari ne prendo 5, ma se ne faccio 4 è meglio di vincere 2-0. Quindi, ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo. Mi piace la formazione tattica da modificare così al volo. Sarebbe bello poterla salvare. Salvarmi più di una. Ma vabbè, siamo ancora una demo. Il guai è questo, è che da due mesi e qualcosa giochiamo una demo plus. Comunque. Adesso pensiamo a fare gol. Tanti gol. Proviamo. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di feste e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. E questa è una struttura di poco superlativa. Una cornice perfetta per partite come queste. Partita già in corso di svolgimento. Casemiro. Mi sembra affatto scherzo. Con una serie di passaggi puliti, efficaci. Modric. Riceve in aria. Vini si usciugna. Ottimo tempo di romantore al gol. Modric. Casemiro. Modric. A sinistra con il passaggio. Filtra la palla per Toni Kroos. Kroos tagliato al centro dell'aria. Le Mar. Cercano l'azione veloce. Modric. Ma vieni. Bene, bene, bene. Benissimo così. Dai. E uno. E uno. E inizia la grande. Subito go. Casemiro. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Nostra Soltanto l'innessa laterale qui Beh questo è un passaggio Quanto meno discutibile Sembrava che stessero Per concretizzare un'azione iniziata bene Dovranno riprovarci Tony Cross Vinicius Junior Evita l'avversario con un dribbling elegante Può provare E' riuscito a leggere tutto in anticipo E si è portato nella posizione giusta per intervenire Una giocata che vale quanto un gol Si libera la grande No che passaggio rende Se lo fai troppo debole Lo fai troppo forte Se lo fai troppo forte Lo fai troppo forte Scegli di andare per le pie verticali E vabbè Niente di fatto Azione interrotta Peccato Modric E' un po' di più a zero Esempio perfetto di marcatura Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede Modric Ci prova con un pallone profondo Carval Traversone verso il centro Passaggio fantastico Ah Ah Allora C'è Ah No Vinicius Junior ha dato subito l'impressione di poter saltare l'uomo in qualsiasi momento Si riparte Di nuovo in parità Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro Ecco lo spettacolo che ti aspetti Botta e risposta Colpo su colpo Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centro campo E freddezza sotto Botta Vede lo scatto e cerca la profondità Bene Bello Bello Questo dribbin Ci è piaciuto Tentativo di allungare il gioco Tony Cross Modric Hanno deciso di arretrare il baricentro Luca Secondo te vogliono sfruttare il contropiede? Sì Fabio Penso di sì La soluzione tattica mi sembra quella Mirano a riconquistare la palla nella propria metà campo Chiudendo tutti gli spazi per ripartire in velocità Ribaltando il gioco Ci prova con un pallone profondo Ecco il tiro No No Incredibile Vabbè È un gol così Fabio è proprio regalato Eh sì Chissà Forse ha perso la concentrazione Per questo ha sbagliato È un mix di circostanze sfavorivoli in questo autogol La partita però rimane aperta e tutta da vivere È difficile prevedere situazioni del genere a certi livelli Ma più della forma conta la sostanza Gli avversari ringraziano Cerca il tiro No Vabbè Stiamo sbagliando Sto sbagliando Luis Suarez È arrivato sul pallone Ma non riesce a metterla dentro E dai ragazzi però Sbagliato Mendy Casemiro Vinicius Junior La gioca a sinistra Sulla fascia È libero Saluto da desiderio Non si lascia a bindolare Recupera palla Pallone interessante In verticale Palla filtrante per Griezmann Ha spazio per cercare gol Camacca Non ho giocato malissimo Però Le macche mi dice Amanti Che nel secondo tempo Le cose migliorino Ancora più avanti Tutti quanti Correa Correa CLD No Non mi interessa Matteo Scugno Via Mi ha fatto tanto bene L'altra volta Mettiamolo qui Modifica in secondo appunto Ok Proviamo Dai Un altro colletto Almeno un altro Almeno un altro Poi si va meglio A correre Il secondo tempo È cominciato L'unica cosa Che non possono permettersi Di fare È concedere Un'altra rete Agli avversari La partita sarebbe Chiusa Definitivamente Sarà determinante Secondo me È importante Segnare Che racconteranno L'inizio Del secondo tempo Lemar Prova a darla profonda Nello spazio No L'arbitro è per l'operazione Credo sia fuori gioco Dannazione Ragazzi vai Toni Kroos Mendy Sceglie di andare Per via verticale Vinicius Junior Vede lo scatto E cerca la profondità Pallone Rasotera In aria Grande parata Dio Black E il portiere Ha fatto tutto Alla perfezione Ma il portiere Si è esibito In un intervento Da manuale Il portiere Allontana Il pericolo Casemiro La mette Sulla sinistra Ci prova Con un pallone Profondo La gioca in aria Pallo intercettato Credo che questa Sia la prima volta Che provano Ad attaccare Per via centrali Finora hanno preferito Sfruttare le corsie laterali Sapeva già tutto Anticipa l'avversario Concentrazione massima Di questo calciatore Non solo quando c'è da scattare Verso la rete Ma anche in interdizione Questa non è ormai Una sorpresa Molti allenatori di oggi Stanno chiedendo Attenzione al tiro No altro autogol Incredibile Vabbè Tutti avanti Tutti avanti Rischio la figuraccia Ma almeno un gollo Devo segnare Che però E' un bravo Un bravissimo giocatore Questo che mi sta battendo Però Oramai io mi sono spostato Tutti in avanti Per Per segnarne almeno uno Davvero mica male E loro è un dominio assoluto Beh l'inerzia della partita E' cambiata in loro favore Non sarei sorpreso Se arrivassero altri gol Visto come stanno giocando Vediamo anche il Real Madrid È un squadrone Tassieme Intercetta il pallone Dopo una lettura magistrale Vinicius Junior Pallone interessante In verticale Niente Va via in dribbling Via 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 Stava per arrivare addirittura Il sesto gol Chissà cosa gli passa ora Per la testa Errori come questi Lasciano sempre il segno Errore qui Il pallone è sprecato Ma del Real Ah beh Niente Pallone interessante In verticale Se ne va Non è sfondato Ma ha reso la vita difficile E' un sentimento interessante Magari avrebbe potuto creare Soluzioni alternative L'azione è sfumata così Ragazzi Ma su Nessuno va Cross Vinicius Junior E passa Può venire la porta da lì Vinicius Junior Suggerimento filtrante per Modric Passaggio splendido Una chance Suggerimento filtrante per Modric Tocco preciso Pericolo in aria Troppo Altra occasione Va rapido sulla respinta Ale Giocatore Giocatore D'altro livello Rispetto a me Quando vi dico che non mi diverto Quando il giocatore O è troppo scarso O è troppo forte Questo è troppo forte Difende con tutto il peso del corpo E disottrae il controllo del pallone Ragazzi Sarà comunque rimessa in gioco con le mani Ci prova con un pallone profondo Eppure Rimessa con le mani Rimessa malcalibrata E palla regalata agli avversari Niente E vabbè Casemiro Forte e forte Questa è veramente una bestia Vorrà giocare in avanti Ma non si è capito con il compagno qui Niente Cioè Arriva Bale Bale Avrà Dos minuti Stato a scontro Dai 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 No Che disastro ragazzi E vabbè Ma non è il vantaggio Che è proprio Niente Giocatore da altro livello Dai Ce la farà altri tre gol Speriamo che ce la facciamo La prossima volta Al prossimo video Ciao